Ciao a tutti, sono Vittoria Caciotti e questo è il mio punto vendita. Sono infatti la store manager del Toy Center Firenze Quirico. Siete pronti a mettere in difficoltà i vostri amici e provare l'ebrezza di un vero e proprio interrogatorio? Seguitemi, andiamo a testare la loro sincerità. Proprio così, Bugie Verità è il gioco che vi farà passare serate super divertenti con gli amici. E grazie all'elevatore di bugie scoprirete subito chi sta mentendo oppure no. Pronti a scoprire i segreti più nascosti? Mettetevi alla prova, al giocatore sulla sedia che scotta verranno poste domande scomode alle quali rispondere con un sì o con un no. Ma tu pensi di essere più bella di me? Nel gioco troverai 64 carte e ben 126 domande. Ma come in tutti i giochi Hasbro Gaming, non c'è freno all'immaginazione. Infatti potrai inventarti qualsiasi domanda. Insomma, il divertimento è assicurato. No! Perché è il gioco perfetto per serate tra amici, rimpatriate tra vecchi compagni e riunioni di famiglia. Diciamocelo per ridere tutti insieme! E' stato un piacere presentarvi Bugie o Verità. E il divertimento continua con gli altri spassosissimi giochi della linea Hasbro Gaming, come la vincente e classico Cluedo. Lo stimolante salto in mente e l'amatissimo Tabù. Non mi resta che mandare un caro abbraccio a tutti e tanti auguri di Buon Natale! Dal Toy Center di Firenze Quirico! Buon Natale! E adesso per presentare il prossimo giocattolo, nomino Federica Rosso, store manager del Toy Center di Gaglianico.